Francesco e Lucio hanno scritto il testo di questa canzone che è nata prima musicalmente e io ho trovato questo titolo avevo bisogno di un titolo forte che facesse pensare un po' di cose e mi è venuto in mente i ragazzi italiani Francesco e Lucio hanno sviluppato la cosa e hanno scritto questo testo ma non l'avete visto ancora bene cosa vuol dire un bambino scutato al centro di una guerra in un cortile in un palazzo a cinque piani più o meno senza sole cercare tra la neve le sue prime parole ehi, 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 ehi ehi ragazzi italiani già ne vivono su ehi ragazzi italiani già ne vivono su mio padre a quel tempo aveva i patti e un'automobile a carbone girava il mondo con gli amici girava la padrone da oggi all'osteria del futuro io con i miei amici a spaccare la testa contro il muro a bere vino a parlare delle donne ehi, 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 ehi ehi ragazzi italiani già ne vivono su ehi ragazzi italiani già ne vivono su tu, che nascerai sotto un ponte da una cagna regina di strada tu, con una stella sulla fronte tu raccolta una fermata proprio tu tra i ragazzi italiani ci sarai anche tu tu che nasci domani tu, sì, proprio tu ma non l'hai visto ancora bene cosa vuol dire con il mano pochi anni sapere già come andrà a finire confusione tra le vene vivere quasi in un mondo che non ti appartiene con la tua valigia in mano con il tuo passato che è il passato nel tuo futuro già lontano dei ragazzi italiani ora parla di tu con i ragazzi italiani ora stai su tu tu che nasci domani tu, sì, proprio tu con i ragazzi italiani ora stai su tu con i ragazzi italiani e ora parla di tu con i ragazzi italiani con i ragazzi italiani e la parla di tu e la parla di tu